La polizia israeliana è impegnata a far luce dopo la sparatoria che ha provocato sette morti a Gerusalemme, ma il killer potrebbe aver agito in autonomia. La città di Memphis sotto shock dopo la pubblicazione delle immagini del pestaggio di Tywin Eichels, manifestazioni in diverse città americane per chiedere giustizia. E di almeno sette morti il bilancio della sparatoria avvenuta nella sinagoga di Gerusalemme Est durante le celebrazioni dello Shabbat, la polizia ha confermato che l'assassino è un palestinese di 21 anni e che probabilmente avrebbe agito in autonomia. In seguito durante la fuga è stato ucciso dagli agenti. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto una risposta immediata per quello che è l'attacco più sanguinoso commesso a danno dei cittadini negli ultimi anni, ma ha anche invitato la gente a non farsi giustizia da sola. Pesantemente criticato, il ministro degli interni Ben Gvir, accusato di non aver garantito un'adeguata sicurezza dopo i razzi provenienti dalla striscia di Gaza che giovedì hanno colpito le regioni meridionali del paese senza tuttavia causare vittime. La rappresaglia israeliana aveva colpito poi il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dove 10 palestinesi sono morti in un blitz dell'esercito. Il comune della città di Memphis, in Tennessee, ha diffuso le immagini delle telecamere di sicurezza che riprendono il pestaggio di Tyree Nichols, il 29enne fermato dalla polizia lo scorso 7 gennaio per aver violato il codice della strada e morto tre giorni dopo a causa delle ferite riportate. L'afroamericano era sceso dalla sua macchina senza opporre resistenza e dopo un acceso scontro con gli agenti aveva cercato di scappare, poi i pugni mentre Nichols ha le mani legate dietro la schiena e calci dopo essere stato poggiato a terra. Il presidente americano Joe Biden si è detto indignato e profondamente ferito da quello che è successo ed è ora in coordinamento con i sindaci di 16 città americane per impedire che le manifestazioni in corso dopo la morte di Nichols generino altra violenza. Un appello a non mettere a ferro e fuoco Memphis è arrivato anche dalla madre di Nichols, invocata più volte dall'uomo mentre veniva pestato dagli agenti. Le autorità ucraine hanno permesso ai giornalisti di incontrare un gruppo di soldati russi fatti prigionieri sul campo di battaglia. Da loro il racconto di una guerra persa e la conferma che a questo punto la cosa più importante sarebbe quella di poter fare ritorno a casa. La propaganda in televisione diceva che il governo ucraino era in mano ai nazisti, ma io ho scoperto che non era così, dice uno di loro, che spera in uno scambio con altri prigionieri ucraini. Meno disposto a fare autocritica un ufficiale dell'armata russa. Sono un ufficiale russo, sempre servito nell'esercito, lo desideravo sin da bambino, per questo non posso rimpiangere nulla. La Russia sostiene che l'attacco missilistico di Giovedì abbia interrotto il trasporto di armi e munizioni della Nato. L'Ucraina afferma di avere abbattuto decine di razzi, ma teme i missili personici e chiede agli alleati l'invio di batterie Patriot. A Stoccolma il ministro della giustizia svedese e il commissario europeo alla giustizia hanno parlato dei crimini di guerra attribuiti alla Russia. Secondo un calcolo presentato si sarebbero contati 65.000 episodi di presunti crimini internazionali, il numero più alto di sempre. Nel giorno della memoria dell'Olocausto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato ad una cerimonia al memoriale di Babi Nyar vicino a Kiev, dove il 29 e 30 settembre 1941 33.000 ebrei furono trucidati dai nazisti. Ad Auschwitz in Polonia la guerra al di là del confine in Ucraina è nella mente di coloro che si sono riuniti per commemorare 6 milioni di ebrei vittime del nazismo. Una sopravvissuta al campo di sterminio si pone alcune fondamentali domande. Oggi, mentre mi trovo qui ad Auschwitz, Birkenau, ho il terrore di leggere i resoconti di una guerra che si svolge così vicino a noi. La Russia che ci ha liberato qui ad Auschwitz ora sta conducendo una guerra contro l'Ucraina. Perché? Perché la politica è così? Per la prima volta la Russia non è stata invitata a partecipare alla commemorazione internazionale proprio nel campo di concentramento di Auschwitz, liberato dai soldati russi il 27 gennaio 1945.